Cambia volto in Ravenna, salutato il timoniere della passata stagione Andrea Mosconi, ecco prodare sulla panchina del club bizantino Mauro Antonioli, il tecnico che tanto bene ha fatto nelle ultime due stagioni alla guida di Bellaria e Ribelle. Mi piace il progetto che hanno queste persone che vogliono far bene con Ravenna, di porre delle basi per un miglioramento costante nell'arco degli anni, quindi sicuramente la volontà di fare meglio di quello che è stato fatto l'anno scorso, anche se l'obiettivo chiaramente è stato centrato in pieno che era quello della salvezza, quest'anno bisogna alzare un attimino la sticella e cercare di puntare a qualcosa di più, sicuramente una salvezza più tranquilla e magari cercare di agganciare anche o lottare fino alla fine per il treno playoff, sarebbe sicuramente una cosa importante per la città, per la società e per tutti. Una ventata di novità che riguarda anche lo staff dirigenziale del club giallorosso, con l'ingresso di Giorgio Screpis, nuovo direttore tecnico. Penso di portare un contributo in esperienza, so che Ravenna è una piazza importantissima anche per la mia carriera da direttore tecnico, io ce la metterò tutta per far bene, ho portato dietro il mio staff perché sono sicuro che faranno bene, è già tre anni che lavoriamo insieme e penso che qualcosa di importante abbiamo fatto.